Con questo video tutorial andremo invece a vedere come si compila la sezione tra l'altro obbligatoria Alte dichiarazioni, sempre per la compilazione delle domande per il relatore provinciale e l'istituto di supplenza per il biegno scolastico 2020-21 e 2021-22. Si va su Alte dichiarazioni e si fa inserisci, si entra nel profilo dove il sottoscritto o la sottoscritta dichiara di essere cittadino italiano e di questo settore compila una delle seguenti condizioni. Se compila di essere cittadino italiano ovviamente non va a compilare di essere cittadino di uno stati membri dell'Europa o di paesi terzi che si trovino nella condizione di cui l'articolo 38,1 e 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001-165 oppure ancora le altre due opzioni. Poi dichiarerà di essere di età non inferiore a 18 e non superiore a 67 a partire dal 1 settembre 2020 perché questa è la condizione dentro la quale si deve trovare l'aspirante alle supplenze come età anagrafica, di godere dei diritti civili e politici, di avere una posizione regolare nei confronti del servizio di leva, questo va compilato anche dalle aspiranti di genere femminile e di essere cittadino e questo invece va compilato solo perché riguarda la conoscenza della lingua italiana da chi ha espresso una di queste tre condizioni che proprio rappresentano il fatto di non essere cittadini e italiani. Allora chi ha compilato come in questo caso la condizione di cittadinanza italiana non deve compilare questo. Poi si va alle dichiarazioni di assenza di condizioni ostative per il concorso, di non essere escluso dal trattativo, di non essere destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stato licenziato per giusta cauta o giustificato motivo, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, di non essere temporaneamente inabilitato o interdetto per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione e di non essere all'indipendenza dello Stato di enti pubblici collocato a riposo, dunque non deve godere di una pensione e di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. Poi riguardando la dichiarazione relativa alla sanzione disciplinare dell'esclusione temporale all'insegnamento di non essere stato soggetto a certe sanzioni disciplinari e si indica qui, se poi si è stato soggetti allora in alternativa c'è quest'altra campo da compilare, ma di solito non si è soggetti a sanzioni disciplinari. Poi la dichiarazione è la consapevolezza dell'accertamento dei requisiti di ammissione, di essere consapevole di essere ammesso da gradatore con riserva di accertamento del possesso dei titoli dichiarati e dei requisiti di ammissione, di essere consapevole che l'amministrazione può disporre con provvedimento motivato l'esclusione degli aspiranti non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione e questo invece va compilato solo per le seguenti classi di concorso. Altra dichiarazione è di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni docenti, si clicca qui, se invece di non avere procedimenti penali si deve cliccare qui oppure se si hanno procedimenti penali pendenti si deve indicare qui e dire quali sono questi procedimenti penali pendenti, ma si augura di non avere procedimenti penali pendenti, di non avere riportato condanne penali oppure se uno ha riportato condanne penali deve dire quali condanne penali ha riportato e poi di questa indicazione obbligatoria proprio che sta che il docente è cosciente di fare autodichiarazione di sotto la propria responsabilità. Poi c'è la condizione della privacy che va indicata per tutti, invece l'aspirante è messo in ruolo con riserva e esensi questo solo coloro che sono inseriti in ruolo e stanno facendo questa domanda ma sono inseriti con riserva. Dunque si fa inserisci e dunque la domanda con le altre dichiarazioni appare pronta. Speriamo che questo video tutorial sia stato utile per i nostri lettori, ne faremo anche degli altri. Seguiteci nel nostro canale YouTube, nel nostro sito www.tecnica.scuola. Un saluto a tutti i nostri lettori. Grazie a tutti.